Amatrice, tre anni dopo il sisma del 24 agosto 2016, è ancora un cantiere. La ricostruzione sembra una storia infinita e ancora stenta a decollare. Ad Amatrice, Accumuli e nelle altre, cittadine segnate dal devastante terremoto del centro Italia, tra Lazio, Abruzzo e Marche, che causò in tutto 299 morti, oltre 400 feriti, il tempo sembra essersi fermato, creando un limbo di polvere e macerie, di morte, allinazione e scoraggiamento. Un'ottantina di interventi di ricostruzione in cantiere, principalmente per le scuole, l'ospedale, chiese, caserme e municipi, per un importo di 120 milioni di euro. Ma c'è sempre tanto da fare, soprattutto per garantire agli abitanti, molti dei quali ancora sfollati, una sistemazione dignitosa. Nel mese di luglio 2019, anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita nella nuova scuola Romolo Capranica da Amatrice, aveva rimarcato la necessità di una ricostruzione più celere. Il sogno della realtà concreta della ricostruzione non si esaurisce nella scuola. Deve procedere parallelamente e con la stessa velocità in tutti i suoi versanti. La pista dell'ospedale, quella delle abitazioni private, che richiede un concorso di responsabilità delle istituzioni e dei soggetti privati. Quella della pista dei beni culturali e di culto, la pista delle strutture produttive. Sono tutte piste di ricostruzione indispensabili per restituire vitalità piena al territorio, a questa città, per realizzare appunto e rendere concreto il sogno di cui Silvia ha parlato, per togliere, per rimuovere definitivamente il senso di precarietà che il terremoto ha introdotto in queste zone. Amatrice commemorerà le vittime del sisma con una veglia e una fiaccolata tra le vie della città. Alle 3.36, ora della scossa, i rintocchi di campana, uno per ogni vittima, ricorderanno i morti. La Santa Messa sarà celebrata alle 11 al Palazzetto dello Sport. Proseguono intanto anche i processi nei confronti dei presunti responsabili dei crolli di una settantina di edifici che secondo le accuse furono costruiti o ristrutturati con materiali scadenti e non a norma.